Ma niente, se questa caglione ci ha già offerto una cosa da bere Ma all'improvviso è arrivato questo scasso a cazzo che vuole... Però scasso a cazzo, io comparo rubò sicca Ehi, ma io che cazzo ne sapevo? Non sei mai una cazza tu O strunzo che fermano, fallo a casa nostra, non a casellata Papà, ma chi sicca non contro una cazza? E poi chi mi ha sfornato la motocicletta, che era a fare? A me non sono bastato Che era a fare? Gennaro, adesso dobbiamo andare d'accordo con tutti quanti Pure con chi non conta una cazza Ma poi Gennaro, hai capito? Questo ti ha sfornato la motocicletta Ma tu cosa hai fatto? Hai reagito male? Grazie a tutti Oh, 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 Vania, cosa c'è? C'è chi c'è? E chi c'è? Bulle. Lascia stare. Accomodato. Tuo padre non ci sta? Stai in pensione. Hai già parlato con te? E ora c'è un chicco, no? Che mi fai? Io non devo perdere. A quanto vuoi risolvere? Domino, non è una questione di solito. Qua c'è la faccia mia in questione. E la faccia è tutto. Sì, ma pari. Che la scuola l'ho finita un sacco di tempo fa. Ma tu che vuoi risolvere questa cosa? E a me c'è il piano che la figgio in piazza, va. Chi si ha fatto questo burdello? e questo l'ha da faccio parire. Parire, ma dove veramente fai? Questa cosa non si fa passare così. Sì, non è una cosa. Ti sono venuto a toccare un segno di buona volontà. Potevo stare a casa. Ma ora sai che dico? Casullo per l'avere pensato di stare stronzata. Ma le scuse le devi fare tu a niente. Don B. Ma così va a fare male, eh? E vorrà ricevere che tuo padre richiamiamo in servizio. Fate buon viaggio di ritorno. Ma l'abbaccio, ora. Hai capito che significa fare stronzata così? Buon viaggio. Fai fare stronzare. Ha! Ma l'abbiamo! Grazie.